Palazzolo, stalker, invaghito, perseguita e minaccia la vittima nonostante il divieto di avvicinamento, arrestato. I carabinieri della stazione di Palazzolo a Credi hanno arrestato un 35enne del luogo in ottemperanza a un provvedimento di aggravamento del tribunale di Siracusa. L'uomo, nonostante fosse gravato dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento, ha continuato a perseguitare la ragazza della quale si era invaghito con messaggi e telefonate anche dal tenore minaccioso e diffamatorio, indirizzati anche a persone vicine alla vittima. Le reiterate violazioni alle prescrizioni imposte prontamente segnalate dai carabinieri all'autorità giudiziaria e retesia hanno portato all'emissione di un provvedimento di aggravamento a seguito del quale il 35enne è stato posto ai domiciliari.